Eh già, alla fine ho ceduto e mi sono deciso ad acquistare una delle bambole del nuovo film Barbie The Movie. Siamo qua con la versione texana. Non so bene come l'abbiano chiamata loro, ma io la chiamerò la texana. E ragazzi, non vedo l'ora di deboxarla assieme a voi, perché voi state già vedendo alcune immagini, ma io devo ancora deboxarla. Quindi iniziamo subito. Ed eccoci qua con la Barbie texana, tutta completamente fucsia, all'interno del suo box. Questa è la scatola che Mattel utilizza per le bambole di questa linea da collezione, quindi la linea collector, quelle che costano un pochino di più. Infatti questa bambola l'ho pagata alla bellezza di 74,90€. La trovate allo stesso prezzo anche su Amazon e vi lascio come sempre qui sotto il link se vi interessa acquistarla e aiutarmi a sostenere il canale. Ma parlando della scatola, le differenze non sono molte, ma magari le vedremo quando acquisterò la bambola normale, la bambola playline, chiamiamola così. In questa possiamo vedere che c'è un sacco di rosa, ovviamente il classico rosa Barbie. Ci sono questi due bordini laterali con anche una linea gialla e all'interno, al centro, c'è tutta questa vetrina che ci lascia vedere la bambola qua. Qui in alto troviamo la b di Barbie in un cuoricino con tutti questi glitter olografici molto belli. Invece nella parte inferiore troviamo ovviamente tutto il logo Barbie The Movie, che come vedete è ispirato al logo vintage di Barbie, con anche qui sopra questa stella cadente di vari colori, ma soprattutto la scritta Barbie, anche in questo caso è completamente olografica. Su un lato della scatola, oltre alla cornicetta bianca e gialla, troviamo la b di Barbie all'interno di un cuore, poi troviamo il logo Barbie The Movie, sempre con la stella cadente, e poi troviamo anche qui un'immagine della casa di Barbie, sempre dentro a un cuore. Sull'altro lato invece troviamo le stesse identiche cose ma messe al contrario, quindi in alto la b, al centro il logo e in fondo la casa di Barbie. Sul retro invece non ci sono molte cose ma possiamo vedere questa immagine di Margot Robbie nei panni di Barbie, un'immagine proprio tratta dal film. Proprio accanto alla sua testa ritroviamo la b di Barbie dentro a un cuoricino, in alto ovviamente il logo Barbie The Movie, e qui sotto c'è scritto in varie lingue e anche in italiano, saluti da Barbie Land, ti auguro di passare la più bella giornata di sempre. Nella parte finale invece un sacco di informazioni che, come sempre, non ci interessano. Ma ora direi di passare subito a deboxarla, anche perché vorrei finalmente vederla in faccia, visto che il cappello nella mia le copre mezzo volto, quindi deboxiamola subito. Appena tolta dalla scatola si presenta così e devo dire che è davvero molto molto bella, ma mi esorta subito ovviamente una domanda. Vale 75 euro? Non lo so, scopriamolo assieme. Prima ancora di iniziare a guardare il suo viso guarderei direttamente il suo cappello, così poi lo togliamo e non ci darà più fastidio. È un cappello completamente bianco, con questo nastrino, è un nastrino di raso applicato, infatti se vedete si muove, perché fa solamente il giro attorno al cappello. È di plastica abbastanza morbida e sul retro vediamo che c'è appunto la chiusura di questo nastrino, che si può anche volendo sfilare, ma non avrebbe senso, visto che la sua bellezza è proprio il fatto che rimanga lì. Un nastrino tutto fucsia con le stelline. Questo cappello, oltre a questo nastrino, non ha proprio nulla di speciale. Quindi passiamo a vedere il suo viso, che da quanto ho capito è stato creato appositamente per Margot Robbie, l'attrice che appunto inda la preta Barbie nel film. Come vedete è un viso molto particolare con fronte agli altri, ha il naso molto più sottile, gli zigomi più pronunciati, i lati della bocca invece sono un pochino più scavati. I suoi occhi però sono ovviamente sempre azzurri, come quelli di Barbie, se no non avrebbero scelto questa attrice, credo. Sugli occhi non indossa praticamente alcun trucco, ha solamente la linea che riproduce la palpebra mobile. Le sue sopracciglia sono di un biondo molto scuro, cenere, quasi castane. Sulle guance c'è un pochino di blush e la sua bocca è aperta in questo enorme sorriso con sulle labbra un rossetto rosa. Leggermente lucido. Confermo quello che dicevo nel Dolls News, questo viso mi piace molto, ma forse l'avrei fatto meno esagerato, con un'espressione un pochino più contenuta. Perché così sembra veramente quasi leggermente spaventata. I suoi capelli invece, appena tolto il cappello, sono un po' un disastro. Sono biondi con anche delle ciocche un pochino più scure, come vedete qui ci sono queste mescioline che sono un biondo leggermente più caldo. Ha la riga in mezzo e sono acconciati come le classiche Barbie Holiday. Infatti se li guardiamo dal retro, oltre al segno del cappello che ovviamente ha segnato i capelli, troviamo la parte finale tutta croccante ma soprattutto ragazzi super incasinata. È divisa in tentacoli, leggermente arricciati qui alle punte, proprio esattamente come le Barbie Holiday, guardate che roba. E sinceramente in questo caso per 75€, in questo video il suo prezzo lo ripeterò all'infinito, per questi soldi mi aspettavo forse qualcosina di più. Non saranno difficili da sistemare, ma una cosa del genere diciamo che me l'aspetto nelle playline, non nelle bambole collector. Alle orecchie indossa questi orecchini che sono a forma di stella argentata, molto semplici, uguali ovviamente su entrambi i lati. Non si possono rimuovere, si possono sfilare solamente fino a un pezzo ma poi c'è il gancio all'interno che li blocca e sono semplici anche gli orecchini. Scendendo invece, iniziando a guardare quello che indossa, vediamo che il collo porta questa bandana, che mi piace tantissimo. È davvero bellissima, completamente fucsia, come del resto tutto il suo outfit, annodata su un lato del collo, con sopra tutta questa stampa, che non mi ricordo mai come si chiami, ma che è davvero molto bella. Ci sono delle stelline e un sacco di decorazioni. Sembrano quasi damascate, anche se so che non si chiamano damascate, però mi piace davvero tanto. Scendendo ancora un pochino possiamo vedere il suo gilet, che è realizzato con questa stoffa, che sembra quasi un jeans, ma anche in questo caso è completamente fucsia. E troviamo dei dettagli molto carini. Per prima cosa vi faccio subito vedere che si chiude sul davanti tramite due bottoni di plastica. Sono contentissimo che abbiano reinserito i bottoni in queste bambole da collezione, proprio perché le rendono un pochino più da collezione con fronte al velcro. Nella parte del colletto però troviamo solamente dei decori stampati. Qui sembrano quasi esserci dei fori dove all'interno passa un filo, ma è stato solamente stampato. Poi ci sono queste due linee bianche sopra a tutte queste stelline viola. Stelline viola che ritroviamo anche su entrambi i lati, ai lati delle due taschine finte, non sono taschine vere, sono finte, che sono state applicate proprio sui suoi fianchi, in corrispondenza di questa cucitura che vedete scendere lungo il suo seno. La parte frontale è a punta, leggermente più lunga a confronto alla parte sul retro, dove possiamo vedere che continuano i decori che abbiamo visto prima di stelline viola, righe bianche e quella specie di cucitura lungo il collo, ma anche un ferro di cavallo viola stampato proprio in mezzo alle scapole. E anche sul retro troviamo queste cuciture decorative molto carine. Ma scendendo a guardare i suoi pantaloni, ovviamente sono realizzati dello stesso tessuto, perché lei indossa un completo, e finiscono a zampa d'elefante. Ma iniziando a guardarli in cintura vediamo che hanno questo bordino fatto a forma di V, che richiama esattamente la forma del gilet. Qui al centro purtroppo hanno solamente stampato il nastrino, che dovrebbe andare a chiudere la parte, diciamo, della cerniera, dell'apertura frontale dei pantaloni, è solamente stato stampato. Lungo entrambe le gambe però troviamo questa cucitura decorativa molto bella, che arriva fino al ginocchio, fino praticamente a dove cambia il tessuto. E se la giriamo possiamo vedere che sul sedere, su entrambe le chiappe, hanno stampato queste due stelline viola. Un'altra cosa carina di questa bambola è che i pantaloni non vengono chiusi con del velcro, ma nemmeno con un bottone, ma vengono chiusi con questo gancetto, che si deve infilare all'interno di questo pezzettino qui, di questo filo arricciato, proprio come se fosse un gancetto dei pantaloni che utilizziamo anche noi. E questa cosa la apprezzo veramente tantissimo. Come vi dicevo i suoi pantaloni finiscono a zampa d'elefante, e sia sul davanti che sul retro ci sono stampate tutte queste stelline bianca e viola. Finiscono davvero molto ampie, proprio come i classici pantaloni texani, ed è una cosa che mi piace tantissimo. Li hanno realizzati davvero molto bene, e anche queste stelline secondo me sono molto carine. Sicuramente per questo prezzo le avrei preferite forse ricamate, o comunque realizzate in un altro modo, ma anche stampate devo dire che le stanno bene. Se alziamo però il pantalone possiamo vedere finalmente le sue scarpe, che sono ovviamente degli stivali texani, come vedete completamente bianchi, ma con dei dettagli colorati d'oro ed argento. Infatti abbiamo la punta completamente dorata, delle stelline sia dorate che argentate, qui a lato questa che dovrebbe credo essere una cerniera, o comunque una decorazione dorata. Anche il tacco è dorato, ma il bordino sulla caviglia è invece completamente argentato, e sono state colorate nello stesso identico modo, entrambe, sia nella parte interna che d'esterna. Con lei fortunatamente arriva anche lo stand, che è completamente bianco, molto semplice, vuoto sotto, con l'asta trasparente, che però ragazzi, come per le Barbie Lux, come vedete, lo stand è completamente in avanti. Infatti fino adesso ho imprecato, perché guardate, se vogliamo mettere la nostra Barbie dritta, praticamente i suoi piedi finiscono oltre il bordo dello stand, e soprattutto il gancio che è stato utilizzato è veramente larghissimo e come vedete balla tutto. Infatti mi è già caduta tipo sette volte, perché poi appena si gira si sfila e anche da così comunque esce veramente facilmente, oltre al fatto che in un attimo cade dallo stand. Stavo quasi per dimenticarmi di dirvi che lei ha praticamente il classico corpo delle Barbie extra, infatti è articolato al collo, alle spalle, ai gomiti, ai polsi, alle anche e anche alle ginocchia. Fortunatamente le hanno messo almeno un corpo articolato. Con lei arriva anche questo certificato di autenticità, che è stato stampato su un semplicissimo foglio di carta, ma soprattutto una cosa che ho notato e che mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che nella traduzione in italiano c'è scritto Questo certificato garantisce che il tuo veicolo Barbie è stato creato grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel. Ho pensato che avessero sbagliato di inserire il certificato all'interno della bambole, che fosse magari il certificato della macchina tratta dal film, e invece no, perché se guardiamo la parte in inglese parlano proprio di Barbie Doll, quindi hanno sbagliato la traduzione in italiano. Questa è una cosa che mi fa pensare assieme a tutto il resto che forse queste bambole sono state realizzate un po' in fretta e furia o comunque con non troppa cura per i dettagli. E quindi questa recensione è praticamente già finita. Questa era la Barbie, la mia prima Barbie tratta dal film Barbie The Movie ed è una bambola da collezione, anche se per molte cose non si direbbe. Sicuramente vediamo che è da collezione per i bottoni e per il cancetto sul retro, ma per tante altre cose no. E devo ammettere ragazzi che secondo me assolutamente non vale i soldi che costa. Troviamo praticamente la stessa qualità, comprerò molti ma molti accessori in più nelle Barbie extra che costano 30 euro. Questa ne costa 75 e in più delle Barbie extra ha solamente uno stand che la reggia malapena, un certificato che è pure caduto tradotto male e dei bottoni e un gancetto. E direi che tutto ciò non giustifica questo prezzo così alto. Sicuramente è bellissima, sicuramente mi piace un sacco, sicuramente sono contento di averla acquistata e mi piacerebbe acquistarne anche altre sempre di questa linea. Ma credo proprio che le altre aspetterò che vadano in sconto perché vi ripeto un prezzo del genere purtroppo Mattel se vedi questo video mi dispiace ma è davvero troppo eccessivo. Con 5 euro in più ragazzi io mi sono comprato la bambola del 75esimo anniversario di Mattel che vi ho già recensito. Vi lascio qui sopra il link per fare un paragone e ci sono solamente 5 euro di differenza di prezzo. Quella ha i capelli perfetti con la retina, un vestito realizzato in un modo stratosferico quindi no, mi dispiace questa bambola non li vale per quanto comunque rimanga una bambola bellissima e infatti l'ho acquistata. Se comunque la volete e non avete pazienza ad aspettare gli sconti come vi dicevo prima vi lascio qui sotto il link Amazon con il quale se acquisterete mi aiuterete anche a sostenere il canale. Per il resto io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate e fatemi sapere soprattutto se anche voi la pensate come me o se pensate che io sia troppo critico e cattivo. Se vi ho anche solo tenuto compagnia lasciatemi qui sotto un like iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.